Salve a tutti ragazzi, prima di lasciarvi al video vorrei scusarmi per la qualità di quest'ultimo in quanto potrei aver effettuato qualche misplay e giocatori contro cui giocato non hanno fatto grandi performance. Sono stato impegnato diversi giorni per cercare di realizzare questo video, ho inserito i migliori replay dal mio punto di vista e purtroppo non sono riuscito a trovare mazzi da meta attuali, diciamo così. Inoltre la lista è stata modificata più volte durante il test e verrà rilasciata ad un certo numero di like. Vi ricordo quindi di lasciare un commento e di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste già fatto. Detto questo, buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.